Ben trovati, buon pomeriggio a tutti, torniamo di lunedì con opening bell, vediamo che cosa sta succedendo sui mercati, vediamo cosa sta succedendo dal punto di vista della politica internazionale, oggi è una giornata importante di tantissimi incontri, ne parleremo come al solito con il nostro amico Massimo Intropido, ciao Massimo, buongiorno, ben trovati. Buongiorno Leopoldo, buongiorno ai telespettatori, ma oggi sì, sembra che sia tornato a soffiare un buon vento, ma non anticipiamo troppo. No, poi è una giornata di incontri interessantissimi, perché oltre di quelli tra Russia e Ucraina c'è un incontro abbastanza importante a Roma tra Stati Uniti e Cina e questo rappresenta forse l'aspetto più forte di tutta la giornata di consultazioni. Chissà che non sia la Cina, non dico mettere le sanzioni agli Stati Uniti, ma raccomandare una certa calma, perché poi c'è tutto un discorso da fare sulla Cina, lo faremo, ed è un discorso che interessa a tutti coloro che hanno mantenuto la Cina in portafoglio e che magari la vorranno aggiungere. Ecco, c'è subito una domanda per tutti e due, però la lascio a te perché è lunghissima, per cui buongiorno Leopoldo, Massimo, cosa ne pensate della previsione del noto investitore Jeremy Grantham che prevede un crollo del 50% dei mercati finanziari dopo la quarta superbolla? Il comportamento pazzo dell'investitore indicativo di una bolla in fase avanzata sostiene, comunque aveva previsto che tutto accadesse l'anno scorso. Sentite, io su quelli che prevedono tutto e il contrario di tutto, prima o poi ci beccano, ragazzi. Sì, se prevedi un crollo prima o poi ragione, io credo che il crollo ci sia stato e anzi, proprio vedendo come si comportano i titoli durante il crollo e soprattutto durante il rally, possiamo imparare tante cose da questa crisi, quindi il problema è se non si possono prevedere le crisi, almeno imparare quello che ci devono dire, perché comunque insomma una risistemata ai portafogli uscendo da questa crisi andrà data e naturalmente la vivremo insieme giorno dopo giorno. Senti, ma Moderna che fa più 17, cosa si è inventata? Probabilmente saranno avanti col vaccino per la Omicron, non lo so, vado a tentoni. C'è la Omicron 2 adesso, c'è la seconda versione. C'è anche la Omicron 3, sì, parlavano anche della Omicron 3. Buongiorno, buongiorno a Sabina che è una delle nostre affezionate ascoltatrici, però c'è con noi, come sempre, noi peschiamo anche dalla regia, dalla redazione di Wall Street Italia e naturalmente di Finanza Online, perché Titta ci ha portato un po' di numeri, perché anche quelli servono, no Massimo, per andare a intervenire. Ciao Titta, buongiorno, ben trovato, buon lunedì anche a te. Buongiorno a tutti, buongiorno anche ai nostri ascoltatori. Sì, ho selezionato un po' di numeri per fare un po' il punto della situazione sui mercati azionari in generale, ma anche sulle altre asset class. Oggi, come diceva Massimo, il petrolio sta scendendo molto, tutto è indirizzato sulle attese per questi negoziati, che stanno facendo salire anche le borse, ma c'è anche un po' di sentiment legato allo scoppio di, diciamo così, delle restrizioni in Cina legate al Covid, che sta contribuendo a far scendere le materie prime, non solo petrolio, ma tutte le altre materie prime. Andando a vedere... Non ci vuole il Covid per avere delle buone notizie, insomma. Praticamente il Covid, adesso non esageriamo con le battute, la mia naturalmente, non la tua. Praticamente, intanto andiamo a vedere quali sono i numeri dall'inizio dell'anno e poi dalla crisi dell'inizio della guerra, praticamente. Vai Titta. Esatto, guardando qui, partiamo dall'azionario, i numeri dell'azionario cosa ci dicono? Che ancora oggi gli indici che si stanno muovendo peggio sono quelli, il Nasdaq, il tecnologico, quindi il Grow ancora è in difficoltà e ricordiamo che a metà settimana c'è la Fed che potrebbe quasi sicuramente farà il primo rialzo dei tassi, il primo di una lunga serie, secondo le attese degli analisti. Però analizzando bene i numeri si va a vedere come, dallo scoppio della guerra, Wall Street è negativa, ma di poco. Meno 1,48 il Nasdaq, meno 2,52 l'MSC World che è l'azionario globale. Quelle che hanno pagato di più sono le borse europee, come abbiamo visto in queste settimane, purtroppo l'azionario Europa è andato molto male e tra l'azionario Europa ad andare peggio è Piazza Affari con quasi meno 10 dallo scoppio della guerra. È facile, diciamo così, capire il perché della sotto performance di Piazza Affari. La nostra esposizione dell'indice Fuzzimib alle banche che sono andate male in queste settimane ha fatto sì che ci sia questa sotto performance rispetto agli altri indici europei. L'ultima riga l'ho lasciata al CSI 300, che è l'indice cinese, protagonista, come dicevo prima, oggi di una brutta performance legata all'aumento dei casi Covid, ai lockdown locali abbastanza importanti che hanno comportato un calo di oltre il 4% oggi dell'indice è meno 15,5 da inizio anno. Quindi anche la Cina, anche l'azionario Cina sta pagando dazio in questo frangente. Guardando invece numeri che delle altre asset class, ho selezionato, ora il petrolio se ne sta parlando tanto in queste settimane, dell'aumento del prezzo del petrolio e le ripercussioni anche sui prezzi della benzina, più 35% il Brent da inizio anno, più 9% dallo scoppio della guerra, che è un dato ridimensionato dai cali delle ultime ore, da inizio guerra si era arrivato anche a un oltre più 20% del petrolio, che ora si sta riassestando. Ecco, oggi cosa sta succedendo al petrolio? Un crollo quasi, no? Un 8-9% o meno. Un crollo dell'8% dovuto a due fattori. Uno, i negoziati, le attese positive sui negoziati. Due, la situazione in Cina, il lockdown in Cina, che fa temere, diciamo così, una diminuzione della domanda. Questo per il petrolio e per le altre materie. Grazie Titta, ti ritroveremo nei prossimi giorni, come sempre preciso e puntuale, come state facendo tutti voi da redazione nel supportare anche questa trasmissione, non solo tutti i siti che abbiamo a disposizione. Richiamo in causa, mentre ti saluto Massimo, Massimo Entropido. Massimo, abbiamo visto un po' di numeri, abbiamo visto un po' di considerazioni per quanto riguarda le andamenti di mercati. mentre stai entrando in campo, vado a salutare Stefano Rizzo e soprattutto Maurizio, che ci dice buon pomeriggio, perché la Cina continua a scendere? L'abbiamo appena detto, ci sono appunto questi timori per questi nuovi lockdown. C'è da dire che la Cina, quando fa il lockdown, chiude in maniera pesante, però proprio perché è così decisa nel chiudere, e poi riapre in tempi ragionevoli. Comunque ci sono cose interessanti da dire, perché nella sua relazione al Parlamento cinese, all'Assemblea Nazionale del Popolo, il premier Li Keqiang, che è il numero due di Xi Jinping, tanto ha fissato un obiettivo di crescita del PIL al 5,5%, che è il più basso da molti decenni. Noi ci metteremo la firma comunque. E poi ha detto che l'obiettivo economico della Cina è la stabilità. E questa secondo me è una parola chiave, perché vuol dire che la Cina, anche a livello di mercati finanziari, non vuole più essere un paese emergente, vuole essere un paese maturo, e soprattutto in un momento come questo, vuole provare a offrire al mercato una maggior stabilità, e questo è un fatto importante. Nel frattempo, mentre... Massimo, scusami, proprio per commentare quello che dicevi, volevo aggiungere una cosa, la possiamo leggere anche nella chiave in cui potrà essere protagonista in una direzione o nell'altra la Cina in questa querella internazionale, definiamola querella internazionale, perché se la Cina dice che vuole stabilità, non vuole certo guerra, no? Assolutamente sì, infatti credo che non sia casuale questa dichiarazione, i cinesi sono bravissimi e attentissimi in quello che dicono, secondo me la Cina si impegnerà in due modi, primo il far cessare la guerra il prima possibile, e poi tra qualche mese il far cessare anche le sanzioni il prima possibile, secondo me il senso dei negoziati tra la Cina e gli Stati Uniti è proprio questo, i cinesi guardano avanti, hanno una capacità di programmazione che sfiora anche se necessario, non dico l'autolesionismo, ma la maggior possibile severità nel breve periodo, proprio per puntare tutte le risorse sul medio lungo, loro vogliono stabilità, le sanzioni non aiutano la stabilità, io credo che l'uscita dalla guerra in Ucraina dovrà tener conto anche dalle richieste della Cina, ma prima hai dato in diretta la notizia di Moderna, ebbene sono andato a vedere che cosa poteva esserci sotto, non si tratta affatto del vaccino contro la Omicron, pare che sia iniziata da parte di Moderna la sperimentazione del vaccino niente meno che contro l'AIDS, e sarebbe veramente una notizia bomba. E non dimentichiamo che le cose potrebbero andare di pari passo, perché all'interno della molecola del virus del Covid ci sarebbe una componente legata proprio all'AIDS che in qualche modo rendeva più complicata arginare questo virus, che era quello che poi il professor Montagné diceva essere una situazione anomala, dal punto di vista della costituzione, proprio della catena del virus stesso. Intanto salutiamo tutti gli altri amici, io li sto facendo passare un po' alla volta, però questo Mario Puppello ci chiede, carissimi, a quando la regolamentazione dei Bitcoin? Ci vorrà un po' di tempo, anche perché si è mossa la scorsa settimana, l'amministrazione Biden lo ha fatto per rispondere, più che altro per mettere paura sul Bitcoin, perché si è avuta l'impressione che molti russi comprassero Bitcoin per aggirare le sanzioni. C'è tutto un mondo del Bitcoin che non è ancora ben chiaro, ma questo non significa che chi fa Bitcoin faccia qualcosa di non corretto, di non legale, anzi, proprio quando ci sarà la regolamentazione, se non sarà piena di articoli assurdi, potrebbe essere proprio lo sdoganamento definitivo del Bitcoin, per lo meno nella parte degli scambi assolutamente legali e trasparenti. Quindi per il momento se ne parla e poi si inizierà una fase dove secondo me ci saranno due mercati, cioè ci saranno gli scambi regolamentati e gli scambi non regolamentati, magari potrebbero anche esserci delle divergenze di prezzo. Staremo a vedere. Mi fa ridere la situazione che mentre tu sei preciso, quasi a plombe o direbbe un inglese, mi arriva il commento di Giuseppe Fortunio che ci dice Buonasera, analisi su Alibaba, una botta pazzesca. Una botta pazzesca, sì, sì, sì. Per cui, mentre tu vai a guardare che succede, lo sai già che cosa succede ad Alibaba? Sei già pronto? Alibaba, vado a vedere, ma c'è comunque in generale da fare un discorso sui titoli cinesi che sono stati in qualche modo, non dico buttati fuori, tagliati, esatto. Secondo me tra le richieste di Xi Jinping potrebbe anche esserci quello di essere meno duri sui titoli cinesi. Alibaba, come tutti i titoli che in qualche modo hanno accesso ai dati degli americani, era stato tra quelli più o meno interessati nel discorso dell'utilizzo dei dati americani. Però parliamoci chiaro, la gente è carica di tutto sui social e quindi voglio vedere che danno può fare un titolo cinese sempre purché rispetti gli standard minimi di sicurezza e di privacy. Assolutamente. Qui stanno arrivando tantissime domande da Demirci. Questa, secondo me, se la indovini Massimo, io faccio soltanto quello che dici tu da dopo in poi. Quando riprenderanno i mercati? Cioè, quando torneranno i valori pre-guerra che abbiamo raccontato? Allora, pre-guerra dipenderà dalla rimozione delle sanzioni. Adesso non è che... Cioè, detto così, sembra che siamo due filo putiniani. No, noi semplicemente cerchiamo di combinare causa-effetto. Però direi che un grosso della ripresa, quindi un 25.000-25.500 punti del nostro Futsimib potrebbero essere recuperati abbastanza rapidamente quando ci sarà l'aria di negoziati seri e cioè praticamente quando si parleranno i due contendenti, quindi Zalensky e Putin. Ecco, allora andiamo da Corto Maltese Rasputin. Ciao a tutti, sempre precisi ed esaustivi una domanda. Visto il blocco del sistema SWIFT come vengono pagati agli albergatori russi che ospitano una stampa internazionale sul suono russo appunto? Magari esistono le eccezioni per pagare gli alberghi alla stampa. Con contanti magari. No, ma probabilmente gli alberghi russi hanno anche conti su banche occidentali e quindi possono tranquillamente ricevere pagamenti. Guarda che secondo me l'impressione che ho io che su questa cosa dello SWIFT ne vedremo delle belle e secondo me non è così chiuso come dicono. È un'impressione che ho ma giustamente vedi che i nostri telespettatori facendo due più due che poi alla fine ci aiutate anche perché poi tramutiamo tante volte i contenuti di queste trasmissioni in articoli approfondimenti e quindi alla fine le vostre domande la vostra curiosità si aggiunge alla nostra per cui è interessantissimo anche quello che ci raccontate voi. Massimo Mori sempre sulla Cina in Cina tassi a zero ed inflazione praticamente inesistente giusto? Per ora sì anche perché anche in questo caso le attività le autorità si sono mosse pesantemente contro gli speculatori sulle materie prime e sai il governo cinese quando si muove tendenzialmente viene ascoltato. Domani e domani si riunisce la Fed buonasera che impatto pensate abbiate dall'Unione del 16 marzo sui tassi Fed Marco? Secondo me era scontata negli ultimi giorni della scorsa settimana è dato quasi per certo un aumento di 0,25 perché lo stesso presidente Powell ha detto io sono concordo sarei concorde con questa decisione poi Ballard che è un po' il Weidman della Fed proporrà subito 0,50 ma credo anche per testare la reazione dei mercati partiranno con uno 0,25 però dicendo che andranno avanti ad aumentare ancora un po' invece secondo me la vera incognita è la Bank of England perché potrebbe fare il terzo aumento per il terzo mese consecutivo ti faccio ridere di nuovo perché abbiamo Massimo Gori Massimo Mori e Valentina Mori che gli chiede ma siamo parenti Massimo? Beh diventa diventa anche una carambata anche una carambata diventa la tutt'ussale dei social siete fantastici siete veramente fantastici adesso battute a parte siamo siamo contentissimi di essere con voi tutti i pomeriggi perché ci divertiamo in maniera simpatica e cerchiamo anche di dissacrare un momento che non è semplice non è facile da in qualche modo individuare allora Massimo però cerchiamo di capire quello che sta succedendo io prima che cominciassi la trasmissione ti dicevo faccio sempre più fatica a scindere le verità no? in questo in questo contesto veramente veramente è complicatissimo non sappiamo quello che vediamo se è vero o non è vero chi dice la verità da una parte o dall'altra Putin che dice noi difendiamo il territorio da eventuali situazioni anomale voi usate le armi chimiche oppure le usano gli altri facendo finta che le usiamo noi è veramente complicato di rimere questa matassa no Massimo? guarda io come sempre nel weekend cerco di muovermi su più fronti quindi vado a vedere un po' le analisi militari le analisi politiche e quant'altro devo dire che sono tutti un po' fermi all'inizio della scorsa settimana cioè l'esercito russo è in difficoltà Putin chiamava chiama i i i i mercenari poi chiede aiuto alla alla Cina cioè è evidente una difficoltà dell'esercito russo le cose non stanno andando come volevano e c'è da dire meno male quindi i russi probabilmente riescono sì a cingere d'assedio le città come il famoso assedio di Casale di cui si parla nei Promessi Sposi ma però non riesce a diventare poi ma meno male ma meno male perché ma meno male perché anzi proprio un impasse potrebbe mettere entrambi di buzzo buono per trovare per trovare un accordo qui non stiamo vedendo un film di Hollywood qui stiamo vedendo la guerra vera per il resto a livello politico e geopolitico senti tutto il contrario di tutto io che per diciamo per impostazione professionale cerco di risalire alla fonte prima delle notizie trascurando i commenti degli altri per cercare di farmi una mia idea io vedo che la novità importante è la discesa in campo della Cina anche perché poi stimolata da Putin e devo dire che piano piano la Cina inizia a farsi sentire col suo solito stile sussurrato ma è uno stile molto chiaro per chi vuole intendere assolutamente perché quello che dicevamo prima sul concetto della stabilità sul concetto di voler trovare un accordo anche non con la Russia cioè la Cina non è andata a parlare con Russia ed Ucraina è andata a parlare con gli Stati Uniti come a dire il problema potete essere voi o l'opportunità potete essere voi quindi la vera analisi che dobbiamo fare da questa giornata credo che Russia ed Ucraina rischino di diventare in questa querella come l'ho definita prima veramente due pedine di un disegno un pochino più grande che forse lo sono sono Leopoldo perché loro malgrado lo sono perché in cambio di uno sforzo diplomatico la Cina chiederà la contropartita chiederà che si sistemino alcune cosette che le stanno molto a cuore quindi tu dicevi giustamente rischiano di io ti dico lo sono è un po' il gioco delle parti tra me e te tu proponi io confermo ma direi che il quadro diventa sempre più chiaro sul ruolo della Cina importante e che sarà pagato con moneta che vale con moneta appena battuta assolutamente il quadro il quadro si fa sempre più chiaro più delineato se Stati Uniti e Russia e Cina trovano un accordo oggi potrebbe essere un accordo che in qualche modo va a dirimere la matassa perché proveremo anche o proveranno a dare la possibilità ad entrambi i contendenti di uscire senza far la figura dei perdenti nell'uno o nell'altro probabilmente su questo comincio a avere dei dubbi su questo comincio a avere dei dubbi sai l'altro Putin soprattutto secondo me comincia a avere dei dubbi allora si rischia che finisca così Putin non riesce a vincere del tutto la guerra io dico meno male però Zelensky alla fine rischia di portare a casa poco bottino per la resistenza anche sanguinosa che il suo popolo ha avuto il coraggio di fare noi la teniamo sempre sul piano politico perché sul piano umano si tifo Ucraina manco manco a discuterne ma noi cerchiamo di dare un giudizio lucido allora il giudizio lucido è la Cina si adopererà per far togliere le sanzioni e secondo me corrono il rischio alla fine di uscirne male tutti e due nel senso poi vabbè diciamo che se l'Ucraina conserverà la sua indipendenza se a Putin verranno messe una serie di condizioni sempre con l'aiutino cinese alla fine si dirà che ha vinto l'Ucraina e per certi versi sarà anche vero però la domanda che uno si porrà sempre è a che prezzo ecco ma dove è finito il Covid-19 qualcuno dice che sia sparito io ho visto comunque un allarme oggi lanciato dall'OMS che in qualche modo si preoccupa del fatto che c'è la diaspora del popolo del popolo ucraino che è un popolo che aveva una percentuale bassissima di vaccinazione siamo intorno al 35% potrebbe riportare un pochino a livelli più alti i contagi anche nella zona nella nostra zona del mondo non solo in Cina io credo che le temperature che si sono riabbassate violentemente la scorsa settimana abbiano inciso notevolmente per quanto riguarda la ripresa anche nei nostri territori dei contagi l'abbiamo visto l'abbiamo selezionato poco dal punto di vista della notizia però ci fa capire Massimo che noi non siamo usciti dalla pandemia noi abbiamo dimenticato la pandemia perché è arrivato un problema un pochino più grande della pandemia però voglio dire è una cosa con cui bisogna fare attenzione è una cosa a cui bisogna prestare attenzione in qualche modo ma sai anche lì bisogna cambiare paradigma e non solo in Italia quindi una maggiore programmazione una maggior capacità di affrontare i casi una volta che ormai sono scoppiati l'anno scorso il paradigma è stato il vaccino adesso deve diventare una cura a 360 gradi proprio per garantire ai cittadini all'economia e ai mercati che non ci siano più lockdown o comunque forme di limitazione della libertà personale che poi incidono sul tenore di vita se poi vogliamo andare a vedere beh capisci che già i negozianti avranno costi più alti già le persone avranno meno soldi da spendere in oggetti e beni che non siano strettamente necessari se poi imponi anche delle limitazioni si toglie quel gusto insomma quella voglia quell'abitudine a spendere a cercare sempre di migliorare un po' la propria vita in generale un po' tutto il welfare che va rivisto il covid non potrà più essere quello che subordina tutto il resto il covid deve essere inserito in un rischio che probabilmente rimarrà ancora per i prossimi anni ma che va gestito in maniera più flessibile più intelligente e direi più equilibrata ecco io voglio leggerti adesso abbiamo letto anche il commento di Valentina però questo commento molto articolato e secondo me molto interessante di Vincenzo delle Curti che dice sostanzialmente dovesse anche arrivare al suo obiettivo militare riuscirà poi Putin a mantenere a raggiungere anche l'obiettivo il suo obiettivo politico e sociale avendo ormai perso qualsivoglia livello di fiducia nei confronti degli occidentali anche della popolazione dei territori occupati e aggiungo io anche della sua popolazione perché le proteste in Russia si fanno sempre più consistenti inoltre riguardo la Cina avete letto dice lui l'analisi di Huawei membro del gabinetto di un membro del Consiglio di Stato cinese che suggeriva alla sua Cina di mollare Putin entro una o due settimane per evitare che l'Occidente si potesse ricompattare in qualche modo contro la Russia e quindi anche contro la Cina io credo che l'Occidente non si ricompatterà mai contro niente perché sta dimostrando di essere veramente pessimo sotto questo punto di vista esatto ma ieri portavo una bellissima analisi geopolitica che diceva vedrete che tra un po' il problema sarà in Europa sarà il superprogramma di riarmo della Germania perché diciamocelo chiaramente la Germania lasciava tutti noi più tranquilli con un esercito minimo e puramente simbolico se la Germania dovesse avere oltre che l'economia più forte d'Europa anche l'esercito più forte d'Europa a parte che inizierebbero le tensioni con gli inglesi ma poi avremmo un problema in più in Europa ora magari si parte prevenuti nei confronti dei tedeschi che peraltro sono persone molto diverse dalle persone diciamo dai tedeschi di un tempo anche perché nel dopoguerra è stata sviluppata un certo tipo di cultura poi basta vedere che tipo di sensibilità c'è per l'ambiente in Germania quindi non dobbiamo noi abbiamo ancora in mente se pensiamo al lato peggiore della Germania la Germania della prima della seconda guerra mondiale la Germania molto ma molto diversa però chiaramente vedi che già il fatto di riarmare la Germania questa forse è una nostra forma mentis potrebbe creare comunque un problema geopolitico in più ma per un motivo molto semplice anche qui rapidamente non si tratta di simpatie antipatie il problema è questo in Europa c'era un equilibrio più o meno strano a tre Germania la più forte economicamente la Francia sua paladina più forte militarmente gli inglesi che quando come sempre nella loro storia quando serviva erano in Europa quando non serviva erano fuori adesso loro sono fuori rimangono la Francia e la Germania e quella a cui darà più fastidio il riarmo tedesco sarà proprio la Francia quindi due alleati di ferro in Europa adesso potrebbero diventare due coniugi con dei rapporti piuttosto tesi quindi anche questo è un elemento che cambierà ecco comunque questa storia dice Beppe dopo due anni non abbiamo ancora capito a cosa serve un vaccino come non abbiamo capito c'è una battuta bellissima che ho sentito qualche giorno fa che uno fa il vaccino per la poliomelite per non prendere la poliomelite quello per il morbillo per non prendere il morbillo e quello per il covid per andare al cinema fondamentalmente e questo è il tema della situazione no scherzi a parte se non avessimo avuto i vaccini dal mio punto di vista saremmo stati messi in una condizione sicuramente peggiore io non entro in questi termini vaccino non vaccino ognuno di noi ha i suoi i suoi paradigmi le sue idee sta di fatto che in un modo o nell'altro questa malattia nella fase iniziale aveva una virulenza completamente diversa da quella che stiamo che stiamo vedendo oggi e vi parla uno che l'ha avuta due volte quindi mi vuole particolarmente bene devo dire quindi non sia però vedi anche 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 il puntare tutto sul vaccino di fronte a un virus che muta continuamente è un qualche cosa che andrà che andrà rivisto ecco perché dico che per combattere e vincere la battaglia contro questo virus in attesa che lui si depotenzi ci vuole un approccio molto più ampio è una mentalità nuova quella che dice Valentina bisogna imparare a conviverci con senso di responsabilità per noi stessi e verso gli altri credo che sia la cosa più utile e interessante e anche più semplice da farlo il concetto è proprio io credo che le restrizioni poi dipendano sempre da come ci comportiamo noi nei confronti del resto delle persone che sono attorno a noi io ho sempre guardato con curiosità non so se ti capitava anche a te quando giravo per gli aeroporti nazionali e internazionali vedevo sempre le aree legate ai paesi asiatici dove c'era gente con la mascherina e non mi spiegavo loro culturalmente poi l'ho capito usano la mascherina quando non stanno bene se hanno un raffreddore per evitare di contagiare gli altri io credo che questo sia una forma di rispetto molto importante verso il prossimo per cui anche farsi un tampone stare attenti agli altri ho visto delle cose inenarrabili di gente che girava comunque con la malattia addosso e questo non è rispetto per gli altri è un danno perché puoi arrivare a delle persone molto più labili di quanto sia stato io che l'ho combattuta due volte e puoi avere dei danni diversi perché molte persone magari hanno lasciato anche questo mondo allora io non voglio entrare più sui vaccini assolutamente non è il tema della nostra trasmissione assolutamente per cui non ce ne frega niente in questo momento però ce ne frega della Germania che compra gli F-35 avversari dalla base della questione di un esercito europeo l'esercito europeo Massimo ne parlavamo l'altro giorno è un esercito che sulla carta è più forte di quello russo e di quello di altri paesi importanti però ha delle strutture talmente diverse l'une dall'altra che poi metterli assieme non sempre diventano complementari nella maniera migliore possibile ma in realtà forse l'esercito da un punto di vista tecnico è una delle cose più semplici da mettere assieme perché sai tutti alla fine ci saranno due o tre tipi di aereo quindi l'Eurofighter Typhoon l'F-35 e lì il manuale di istruzioni è quello per tutti il problema è la gestione politica perché un esercito con quello che costa poi lo devi usare o ti viene voglia di usarlo magari non so per fare missioni caschi blu quant'altro per fare delle no flight zone il problema è guarda ne parliamo ma veramente senza nessun senza nessun preconcetto il giorno che ci sarà il comandante in capo tedesco vedi che cominceranno a eh però adesso chissà poi magari sarà la persona più mansueta più pacifica ecco è finita la globalizzazione questo è un dato che per certi versi dobbiamo prendere in considerazione parliamo di economia parliamo di c'è un mio articolo sul sito di nicolaporro.it lo trovate lo trovate nella nostra pagina assolutamente perché l'analisi che ha fatto Massimo cioè il mondo è cambiato e noi dobbiamo cambiare l'approccio al mondo Massimo lo racconti in maniera estremamente analitica e molto e molto intelligente io credo che quello che stiamo vivendo ci permette di comprendere come delegare tutto all'esterno sia stato un errore di fondo perché poi è bastato veramente poco per inceppare questo ingranaggio no? è bastato un piccolissimo virus come spiego nell'articolo quando è finita la guerra fredda eh si sono aperti dei mercati che prima erano preclusi militarmente allora si è fatto a gara per chi arrivava prima siccome da quelle parti c'era anche un costo del lavoro molto basso è stato gioco forza portare la produzione là perché la potevi inquinare perché molti dei paesi emergenti che inquinano di più inquinano di più su delega di noi occidentali che invece diventiamo green andiamo là a fare le produzioni sporche c'erano persone a cui vendere un paio di jeans un paio di scarpe la prima televisione a colori quindi era un mercato era come la corsa verso la frontiera eh dei film di Kevin Costner no? cioè l'Ovest americano primo che arriva prendeva il pezzo di terra più grande poi si sono però create delle interdipendenze che finché non è successo niente a livello di emergenza mondiale hanno funzionato adesso si è capito che sono state troppo ottimizzate la globalizzazione scomparirà? no perché richiudere tutto eh costerebbe troppo a tutti quindi i mercati aperti secondo me sono un processo irreversibile tranne qualche crisi locale però bisognerà stare molto attenti a quello che si produce in casa a quello che si produce fuori e comunque anche su quello che si produce fuori anche se è una convenienza del cento per cento produrla fuori una parte te la devi tenere in casa perché non si sa mai ecco è importante comunque comprendere che le dinamiche che avevamo prima sono totalmente modificate da tutto quello che abbiamo vissuto abbiamo parlato di microchip abbiamo parlato di tante attività che sono state localizzate o delocalizzate in una maniera forse anche eccessivamente eccessivamente veloce perdendo di qualità nel prodotto che poi veniva veniva realizzato ora se qualcuno stava creando una sorta di tecnicamente viene definito il back shoring di rientro dopo essere andati essere andati fuori e riportare le produzioni in Italia prima sembrava una necessità più che altro di marchio di made in Italy oggi rappresenta invece una necessità proprio di sopravvivenza perché abbiamo visto abbiamo delegato perfino le piantagioni di grano che io capisco se non hai risorse dal punto di vista energetico fai fatica a crearle però capisco anche che se io ho il territorio per poter coltivare il grano non capisco perché lo debba far fare a qualcun altro soprattutto se il grano di qualcun altro è molto meno buono dal punto di vista anche organolettico massimo di quello che facciamo noi in Italia in un paese dove c'è sole ci sono correnti marine capaci di creare dei microclimi fra mare e monti straordinari insomma la pasta più buona è quella con il grano italiano e c'è una battuta che ho visto oggi in una vignetta che dice ma se tutti quanti dicono che fanno la pasta col grano italiano allora perché finisce la pasta e poi non dimentichiamoci le uova italiane che vanno in Olanda e le uova olandesi che vengono in Italia c'è questo sistema redistributivo delle quote agricole europee che non è mai stato geniale fin dal principio e che adesso è assolutamente obsoleto e crea situazioni demenziali quindi anche questo va rivisto perché poi è inutile che mettiamo le sanzioni a chi non è green se tu trasporti inutilmente delle merci il cui trasporto potrebbe essere evitato facendo dell'autoconsumo ragazzi scrivete delle cose fantastiche però io devo dire che questa la voglio leggere perché oggi ci state facendo anche sorridere tanto dicono scrivono che il presidente XI potrebbe cadere dipende da chi gli mette lo scambetto se scivola se scivola sì no io credo che Xi Jinping in questo momento sia probabilmente al mondo tranne vabbè forse il regente adesso dell'Arabia Saudita o personaggi di questo tipo sia uno dei politici più saldo sulla sua sedia e può permettersi di programmare quello che succederà tra due o tre presidenti americani poi naturalmente questo non è un vantaggio da poco Massimo è quello che stai dicendo è un grande vantaggio è un grande vantaggio è un grande vantaggio di creare dei tempi di applicazione dei suoi progetti su larga scala mentre da altre parti questo non avviene guarda la Cina ha il vantaggio mentre dicevo che la grande svolta della Cina lo trovate nel mio articolo è stato Deng Xiaoping che era vestito da comunista cinese e parlava che sembrava uno di Goldman Sachs che è stato quello che ha capito che senza capitali occidentali il paese sarebbe rimasto eternamente povero loro però hanno ceduto al mercato tutto tranne che il controllo e quando c'è da fare un'azione forte e pianificata lo Stato ha veramente il controllo cioè loro se vogliono costruire una città la costruiscono partendo dalle fondamenta che significa fare i servizi bene le strade bene l'urbanistica bene fare i treni bene perché loro hanno il vantaggio ancora in molti casi di partire da zero invece l'Occidente è diviso tra le varie lobby i vari interessi e questo ti fa sempre fare le cose in maniera quando va bene vicina all'ottimo ma non in maniera ottima comunque Filippo non volevo assolutamente denigrare quello che dicevi era una battuta che avevo preso probabilmente leggi i giornali sbagliati scherzi a parte volevo approfittare è forse è un giornale autorevole ne approfittavo per fare una battuta sui giornali perché è uscito facciamo un po' di pubblicità anche il nuovo numero di Wall Street Italia per cui parliamo di tutto quello che sta succedendo dal punto di vista dell'inflazione dal punto di vista del conflitto quindi speriamo che vi possa piacere anzi fateci sapere che cosa ne pensate di questo di questo approfondimento faccio facciamo una cosa vi dico che nella prossima puntata di opening bell regaleremo il pdf a tutti quelli che parteciperanno lo mettiamo in adesso non ce l'ho a disposizione da poterlo girare lo mettiamo in chat così tutti quelli che vorranno leggerlo lo potranno leggere e ci diranno poi quello che ne pensano perché c'è anche un articolo tuo c'è una foto tua all'interno di questo giornale che è bellissima devo dire Massimo a mio parere andiamo avanti e chiudiamo con le ultime domande prima di chiudere la trasmissione andiamo a vedere che cosa ci chiede Stefano De Rosa un aspetto che potrebbe diventare preoccupante come la possibile fine della globalizzazione Massimo è il fatto che i governi occidentali avranno la tentazione di essere ancora più dirigisti questo è un rischio a tuo avviso? questo è già una certezza perché comunque molti governi nello stato d'emergenza ci hanno sguazzato e anche loro si devono abituare a un ritorno alla normalità ma guarda non ho fatto in tempo a girarti la slide volevo al volo leggere qui in diretta i risultati di un sondaggio del Wall Street Journal uscito proprio nell'edizione online di oggi e ha chiesto quali sono i most important items cioè le questioni più importanti per gli americani 50% inflazione ed economia 25% conflitto tra la Russia e l'Ucraina quindi ancora una volta Biden con tutto il suo agitarsi ancora una volta non sta andando incontro alle interessi degli americani questo è un pannello è un panel è un campione del Wall Street Journal quindi probabilmente è un certo tipo di classe sociale e un certo tipo di persone al 15% l'immigrazione e la politica dei confini e qui anche qui l'immigrazione di per sé non è né un male né un bene è come la gestisci e quindi anche qui ci vorrà un salto di qualità nella gestione e sono tutte tematiche del mondo nuove e per farti felice anche gli americani attribuiscono solo il 5% di priorità alla pandemia del coronavirus e poi c'è un 4% che dice non so a questo 4% mi piacerebbe non so regalare una copia del vostro l'ultimo numero del vostro e-journal perché voglio dire è un momento del vostro e-journal adesso mi rovini io posso dargli vostri in Italia stavo leggendo il cioè in un momento come questo dove i problemi non so però guarda devo dirti che noi abbiamo cominciato la trasmissione guardando i numeri dei mercati con il nostro Titta e Titta ci ha fatto vedere come i numeri dei mercati americani nonostante le performance generali siano sempre migliori di quelli degli altri paesi a dimostrazione che forse c'è più stabilità c'è più professionalità c'è più attenzione al mercato stesso non so io credo che ci sia più responsabilità anche nell'avvicinarsi ai mercati e userei un termine maturità dei mercati rispetto a quello che succede da noi ma questo sicuramente sì ma ripeto se tu fai un un sondaggio anche di un pannello di lettori del vostro e-journal quindi diciamo persone di un certo ceto di una certa istruzione e il 50% ti dice che la priorità è l'inflazione e l'economia e questa attenzione che viene data all'economia viene data anche ai mercati finanziari solo il 25% dà importanza cioè allora la guerra vale la metà dell'inflazione dell'economia come attenzione e il coronavirus vale un decimo dell'economia e un quinto della guerra in Ucraina ecco perché dico attenzione a come pensano gli altri soprattutto noi quando parliamo dell'America abbiamo sempre la tendenza a pensare che sia un'altra Europa al di là dell'oceano allora questa roba va bene per New York e per qualche città della East Coast ma se tu vai nel Missouri in Virginia nel Tennessee nell'Oregon è veramente un altro mondo io ci sono stato e ti assicuro che ho visto cose molto diverse da come me le immaginavo nonostante come tutti siamo cresciuti a telefilm e film americani evidentemente evidentemente quello che è poi la realtà perché i telefilm americani rappresentano una piccola zona dell'America perché l'America poi ha delle dimensioni completamente diverse a seconda di dove vai delle caratteristiche completamente diverse a seconda di dove vivi e quindi non possiamo omologare l'America anche la stessa New York che noi vediamo noi vediamo Manhattan vediamo una parte molto distretta della città ma esiste basta fare la maratona di New York o passeggiare sul circuito della maratona di New York per capire quando il mondo americano è cambiato e cambia completamente di scenario ogni volta Massimo io ti ringrazio per essere stato con noi ci vediamo domani pomeriggio e vi porterò il nuovo numero di Wall Street Italia a tutti quelli che saranno con noi lo metterò fuori a disposizione in maniera tale che possiate leggere anche quello che ha scritto Massimo Intropido sul nuovo numero di Wall Street Italia arrivederci a domani grazie Massimo arrivederci arrivederci buona giornata grazie